Ciao a tutti, eccoci qui con il bolide con un'altra lavorazione oggi, atomizzatore attaccato. Andiamo subito a vedere. C'è questa specie di accrocco da ADM, che in realtà accrocco non è, è semplicemente un doccino collegato qui a questo rubinetto che sarebbe lo spurgo di questo tubo, dove ci sono tutti gli ugelli dall'atomizzatore, non badate che sono un po' sporchi. Ho chiuso gli ugelli, ho aperto il rubinetto dello spurgo, molto semplicemente una concimazione. Si vede qui il tubo sembra nero, ma in realtà è tipo rosso scuro. In breve sto effettuando una concimazione a base di chelato di ferro sui miei impianti di pero. Stavo utilizzando questo concime che si chiama FE118, appunto chelato di ferro. Niente, ora faccio miscelare un altro po' il prodotto e vi lascio il video. Un altro po' il prodotto e vi lascio il prodotto. Un altro po' il prodotto e vi lascio il prodotto. Un altro po' il prodotto e vi lascio il prodotto. Un altro po' il prodotto e vi lascio il prodotto. Un altro po' il prodotto. Grazie a tutti.